Anche a Mixer Village è presente il vostro marchio, non poteva mancare un appuntamento del genere dedicato proprio al beverage. Voi siete qua in questa vetrina con tantissime novità di prodotto, una tra le tante qual è? Principalmente il pampero mojito a raspina che possiamo vedere qua dietro, la novità che stiamo presentando oggi qua. Non è altro che un mojito pronto da servire, è un meccanismo molto semplice che si può attaccare al bancone di un bar e che dà un mojito di ottima qualità pronto da servire e quindi è molto facile, molto veloce e sicuramente innovativo nel mercato. Quindi più veloce anche per un consumo più immediato e a livello qualitativo che differenza c'è tra il tradizionale mojito e il vostro? Diferenza poca in realtà, perché a livello qualitativo abbiamo ottenuto sempre in base al nostro rum che è pampero e quindi di una ottima qualità. Il mix è fatto con ingredienti naturali, non artificiali e quindi tutta la miscela è già pronta per fare un mojito di ottima qualità senza dover prepararlo e quindi essere molto più facile a ora di servire, evitare code e questi tipi di cose qua. Voi siete presenti anche qua a primo anno anche per voi a Mixer Village, una vetrina come dicevo in apertura importante, che cosa vi aspettate? In effetti è una vetrina molto importante, ci aspettiamo, lo stiamo vedendo già in questi giorni, molta reazione, molto interesse delle persone, un'affluenza di persone molto interessante, interessati al mojito, al mojito con pampero e quindi proprio una vetrina che ci permette di dare a conoscere una novità come questa. Grazie. Grazie. Grazie.